perché tratta un argomento attuale, purtroppo attuale, quello della droga appunto e non sempre la musica diciamo può risolvere problemi, anzi quasi mai però a volte aiuta, penso che possa aiutare diciamo anch'io, allora io me lo auguro veramente di cuore benissimo, allora sentiamo questa tua bellissima canzone per poi avere ancora alcuni minuti a disposizione per concludere, grazie questa sera l'ho fatto tardi e questo l'ultimo metro mi guardo intorno nel vagone dalle labbra nascono le note di una canzone che non so quando in un angolo io vedo te e se l'amma non ci sei vorrei inseguire i tuoi pensieri e capire dove vanno e insieme ritornare noi a quella che eri ieri e forse un giorno poi ritrovarti ancora là in quel vagone del metro e guardarti per un po' e dirti tu non sei non sei mica quella là che hai buttato quella sera la siringa o una bandiera in quei giorni ormai lontani ritrovarti ancora là mi mostri le tue mani mi mostri le tue mani mi leggo il tuo domani le tue braccia ormai pulite niente buchi sulla pelle è cambiata la mia vita la credevo ormai finita ma adesso sono qua troppi buchi sulle braccia sono i segni di una vita ormai trascorsa ormai finita ma è ancora troppo presto per uccidere il futuro ancora lungo avanti a te la tua vita io vedo già con bambini da sfamare è una casa da pulire perché ucciderla non so spero cambierai e forse un giorno poi se lui trovarti ancora là in quel vagone del metro e guardarti per un po' e dirti tu non sei non sei mica quella là che ho incontrato quella sera la siringa o una bandiera in quei giorni ormai lontani ricordati ancora là mi mostri le tue mani vi leggo il tuo domani le tue braccia ormai pulite niente buchi sulla pelle è cambiata la mia vita la credevo ormai finita ma adesso sono qua e che ho incontrato la mia vita la mia vita Grazie.